Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri Matteo Salvini ha fatto capire, anzi ha dichiarato, che tra qualche settimana è pronta la federazione di centrodestra. Non parla mai di federazione Lega Forza Italia, parla di federazione di centrodestra, parla di sei partiti nel centrodestra come se fosse una squadra di calcetto, sapete che al calcetto si gioca in sei. Fa capire Salvini che nel centrodestra ci sarà la Meloni, ma non ha fatto i conti con l'oste, cioè non ha fatto i conti con Giorgia Meloni. Quindi parla di un centrodestra unito che è di qui di là. Poi dice, beh, noi siamo al governo, loro sono all'opposizione, però dobbiamo andare uniti alle elezioni politiche prossime, dobbiamo fare una federazione. Come vi dicevo nel video precedente, l'obiettivo di Salvini e Berlusconi è duplice. Berlusconi vuole andare al Quirinale e Salvini vuole mettersi a capo di una sorta di centrodestra unito, facendo riferimento ovviamente alle elezioni ultime, per non prendere i sondaggi, le ultime elezioni, quelle delle europee del 2019, dove davano la Lega al 34%. Dice, con quelle elezioni che sono le ultime, le uniche che fanno testo, io sono il capo e pertanto del centrodestra. Uniamo il centrodestra e così ci presentiamo uniti. Solo che nel giochino ideato da Salvini e Berlusconi il piano è un piano un po' troppo semplice. Insomma, come pensano realmente di impacchettare su Giorgia Meloni e il suo partito? Giorgia Meloni è una persona intelligente, non si fa a far su da questa proposta. Chi accetterebbe mai un partito in ascesa come quello di Giorgia Meloni, che molti sondaggi danno come primo partito? Ma come fa a farsi impacchettare da Salvini e Berlusconi e farsi imbrigliare in un centrodestra dove Salvini diventa il segretario, Berlusconi il presidente? insomma, realmente è una manovra un po' goffa per cercare di frenare Fratelli d'Italia, ma non puoi frenare così un partito e non puoi neanche credere che Giorgia Meloni caschi in una cosa del genere. Giorgia Meloni però dice, beh, è una proposta sensata ma non coinvolge Fratelli d'Italia, spiegano fonti del partito della Meloni. Invece Fratelli d'Italia dà una sorta di risposta, piuttosto che non rispondere proprio come ha fatto in passato quando neanche gli rispondeva. Loro continuavano, la federazione da Fratelli d'Italia gliel'avevano detto una volta, non ci interessa. Poi hanno continuato, dicevano non gli rispondere neanche più. Questa volta per gentilezza, ennesima gentilezza, lei risponde, dice siamo disponibili invece a una riunione settimanale dei capigruppo. Come dire, federazione no, se volete facciamo una riunione settimanale dei capigruppo, dei partiti e ci raccontiamo quello che succede. Se federazione sarà, come dice Salvini, a settembre è già pronta, sarà solo di Lega, Forza Italia e anche Coraggio Italia. Alla fine aderisce anche Coraggio Italia, il partito di Luigi Brugnaro e Giovanni Totti, ma è un partito da 0,8-0,9. La cosa incredibile è che Giovanni Totti dice, beh, ho fatto cambiamo, ho partito da 0,9, adesso ne faccio un altro con Brugnaro, gli cambio il nome. Ma cosa pensavano di fare realmente? Totti pensava realmente, cioè lui crede, come tutti i politici, di essere un grande leader, una persona carismatica. Forse lui si crede più a suo agio in un partito dal 20-30%, ma io non vedo Totti come un grande capo politico a capo di un... no. Giovanni Totti è un politico, ma non è come lui vorrebbe essere, non è uno di quei capi politici. Allora si è messo a capo di un partitello cercando di essere come Salvini, Meloni, Berlusconi, ma non ha, secondo me, non ha quella stoffa, non ha quel qualcosa in più che hanno quegli altri capi politici. E non tutti hanno quella scintilla per avere un partito dal 20-30% o 40%. Non si era assegnato da cambiamo 0,9%, fa un altro partito, un altro partito da 0,9%. Giovanni Totti realizza che il tuo elettorato è da 0, qualcosa. Devi fartene una ragione. Devi fartene una ragione. Forse hai sbagliato a uscire da Forza Italia, forse dovevi andare nella Lega, tirar fuori le solite scuse che dicono tutti i politici. Io sono sempre stato, sempre stimato Salvini. Probabilmente Totti non vuole chiedere a Salvini di entrare nel suo partito perché lui si sente alla pari, lui si sente un grande politico come i capi del centro-destra, ma in realtà non lo è. A settembre ha annunciato Salvini, mercoledì sera, il centro-destra di governo vivrà una prima trasformazione. Facciamo una federazione, non un partito unico, ma comunque una forza capace di parlare con una voce sola, una semplificazione che potrebbe dare una grossa mano anche al Premier Mario Draghi, non più ostaggio di PD e Movimento 5 Stelle e che non avrebbe più a che fare con sei distinte forze parlamentari di centro-destra divise come una squadra di calcetto. Il gruppo unico al Parlamento italiano dovrebbe imitare nei piani di Salvini quanto potrebbe avvenire anche a Strasburgo, dove da mesi la Lega lavora per unire i tre gruppi in cui si dividono i tre principali partiti di centro-destra italiani e arginare così lo strapotere politico e strategico di PPE e PSE. Ma ai partiti italiani di quello che succede in Europa non gliene può fregare meno, è una cosa marginale, non gli interessa e pertanto quando parlano di Europa è perché non sanno mai bene cosa fare in Italia, allora virano sull'Europa ma realmente credo che a tutti i partiti italiani interessi veramente molto ma molto poco quello che succede in Europa e le dinamiche della politica in Europa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti sempre qua su Teleitalia. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ricordatevi che nella community di questo canale ci sono sondaggi ai quali partecipare e poi c'è anche Teleitalia seconda rete con altri video di politica ma non solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.